È stato definito desertificazione bancaria ed è quel fenomeno che sta interessando 26 comuni della Toscana, di cui 7 nell'Aretino, nei quali abitano complessivamente 50.000 persone. Piccoli centri che rimangono senza uno sportello bancario nel proprio territorio a causa della chiusura degli stessi. Il 16% dei comuni toscani inoltre ha un solo sportello. Il tema è stato al centro di un incontro con la stampa promosso a Firenze dai consiglieri regionali della Lega Marco Casucci ed Elena Meini che hanno redatto un'interrogazione con cui si rivolgono alla Regione. Chiediamo con un atto ufficiale a Regione Toscana cosa intenda fare per far sì che non possano esservi questi servizi essenziali a mancare nei territori marginali. Noi siamo della parte della popolazione, quella più debole, molti anziani vivono nei piccoli centri e dobbiamo trovare delle risposte. La Regione Toscana non può assistere spettatore inerte a questo fenomeno. Sull'argomento è intervenuto anche Fabio Faltoni, responsabile provinciale della Federazione Autonoma Bancari Italiani di Arezzo. Ci vuole un grosso lavoro da parte degli enti locali, delle regioni come la Regione Toscana.